Delitto di Lumarzo Borgarelli ha ottenuto il rito abbreviato che comporta lo sconto di un terzo della pena. L'inizio del processo è fissato per il 15 settembre. La città metropolitana ha approvato il piano strategico, in primo piano l'innovazione tecnologica con i nuovi poli di Chiaveri e Seste Levante. Martedì si celebra la festa della liberazione, cerimonia in tutti i centri della costa e nell'entroterra. Una grande prestazione non basta a l'entella di Castorina, sconfitta all'Olimpico contro la Roma, ma non mancano le recriminazioni. Poco fa, non me l'aspettavo, mi è stato allungato un'immaginetta dove si dice Nando Negri, sacerdote di Cristo. È il ricordo della sua ordinazione. Nostra Signora dell'Orto, 22 aprile. 22 aprile. Lui da questo punto di vista possiamo dire che facciamo un regalo Don Nando, un regalo per la sua ordinazione. Qualche anno dopo ormai, ma io lo facciamo, lo facciamo volentieri. E appunto lui ci ha insegnato l'accoglienza. Un'intitolazione a Maria Teresa Abruzzone, perché? E chi è? Allora, primo era un abitante di San Pier di Canne per tantissimi anni, quindi abitava in faccia dall'altra parte del fiume, in via Santa Chiara. Poi un umile discepola di Don Nando, che in prima persona faceva, rimasta vedova senza figli, faceva accoglienza, non in casa proprio, ma seguiva proprio personalizzando persino troppo l'intervento con alcune persone. Io ne ho conosciuto almeno due di queste, in un modo, diciamo, con una passione notevole, oltre che accompagnare Don Nando, e tutti la ricordano con quella 127 Bordeaux, quella guida sicuramente sua particolare. Bel tipetto, un caratterino particolare, ma davvero che si prendevano a cuore le persone in difficoltà, senza casa o con fragilità. E ci sembrava davvero che fosse una persona rappresentativa del percorso che Don Nando ha avviato. È lente pubblico rappresentato dal sindaco Roberto Levaggi, quello che questa mattina presenta questo nuovo momento di accoglienza che arricchisce quello che è Chiavari. Sì, era un impegno che ci eravamo presi anche nel nostro programma, come maggioranza che si era insediata nel 2012. Poi i problemi burocratici e progettuali hanno allentato, non ci hanno permesso di realizzarlo in tempi rapidi, però finalmente ci siamo arrivati. Cioè, i poveri, la gente meno ambiente, che spesso dorme sotto i portici nelle stazioni ed inverno, è una cosa non bella da vedere, soprattutto in tutte le stagioni, anche perché si dà un sostegno anche morale, un pasto caldo a questa gente. Abbiamo realizzato questo dormitorio grazie alla presentazione insieme al villaggio di un bellissimo progetto per riqualificare, tra l'altro, anche tutto il centro Chiarella, non solo per il dormitorio. Comunque qui oggi inauguriamo questi 22 posti letto, 200 mila euro dati dalla regione, attraverso bilanci della protezione civile. Credo che uno spazio polifunzionale come questo, ben gestito e costruito in tempi rapidi, sia un esempio dei cittadini, che le istituzioni non dormono e che i soldi vengono spesi bene, vengono spesi in una rete di protezione sociale in questa regione, che può servire sia per il disagio e l'inclusione, ma può servire anche in momenti difficili, che poi speriamo siano sempre meno, grazie ai lavori che stiamo facendo di messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico, che prestissimo interesseranno in modo importante anche la città di Chiavari. Buonasera ai telespettatori di TGT Guglio, abbiamo iniziato questa edizione del nostro telegiornale, devoriosamente alla inaugurazione avvenuta questa mattina del dormitorio presso il centro Fanco Chiarella di Chiavari. Le notizie più importanti riguardano la cronaca giudiziaria e cominciamo subito col Tribunale di Genova, dove nel corso dell'udienza preliminare Borgarelli ha ottenuto il rito abbreviato che comporterà lo sconto di un terzo di pena. Il processo è andato a ruolo per il 15 settembre. Vediamo di che cosa si tratta. Inizierà il prossimo 15 settembre a Genova il processo a carico di Claudio Borgarelli, l'infermiere di 55 anni, che lunedì 31 ottobre dello scorso anno confessò di aver ucciso lo zio Albano Crocco di 68 anni. Ma la novità di rilievo riguarda l'udienza preliminare nel corso della quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato da parte dell'avvocato di fiducia dell'omicida. Nella stessa udienza la vedova e i figli di Crocco si sono costituiti parte civile. Il grave fatto di sangue, accaduto l'11 ottobre a Craviasco, piccola frazione del comune di Lumarzo, aveva destato molto scalpore non soltanto nella riviera di Levante. Nell'omicidio si erano occupati anche i giornali e le televisioni nazionali. Destava scalpore soprattutto l'efferatezza del delitto perché il corpo dell'infermiere verrà ritrovato verso sera, lo stesso giorno della scomparsa, decapitato in un dirupo con segni evidenti di alcuni colpi d'arma da fuoco sulla schiena. Le indagini condotte dal comando provinciale di Genova dei Carabinieri e della compagnia di Chiavari si erano concentrate sulla figura di Claudio Borgarelli, nipote della vittima. I suoi movimenti vengono filmati dalle telecamere e gli interrogatori diventano stringenti. Dopo quasi due settimane viene arrestato dagli uomini dell'arma con l'accusa di omicidio aggravato e premeditato ed occultamento di cadavere. Tre giorni più tardi Claudio Borgarelli confesserà l'omicidio. Passiamo alla cronaca cittadina e in stretto riferimento a quella di Sesti Levante il centro di raccolta urbano e nel mercato del riuso ha un bilancio molto positivo perché in meno di due mesi sono avvenuti quasi 700 ritiri e avviate a riuso 25 tonnellate di oggetti vari mentre la media raccolta dalla differenziata da gennaio a marzo sale al 76,19% in aumento allo stesso periodo dello scorso anno. Lo fa sapere l'amministrazione comunale di Sesti Levante che sottolinea anche che nei primi due mesi di apertura di mercato i ritiri sono saliti con 685 schede al giorno. Si registra una grande richiesta di oggetti per la casa sia per quanto riguarda piatti, bicchieri, stoviglie in genere per l'aredamento sedie, lampadarie, tavoli ottima la risposta per libri giocattoli e oggetti per bambini da qualche giorno si fa notare è stata aperta anche la possibilità di depositare capi di vestiario purché in ottimo stato e anche in questo caso il riscontro degli utenti è decisamente positivo. Passiamo alla cronaca del nostro territorio la città metropolitana ha approvato il piano strategico all'unanimità e questo piano riguarda soprattutto l'innovazione tecnologica che ha ormai dei punti importanti e strategici a chiave a sé si rilevante. Vediamo il servizio. La città metropolitana di Genova tra le prime in Italia ha approvato il piano strategico che divide il territorio in nove aree omogenee. Uno degli obiettivi primari è quello che riguarda dall'innovazione tecnologica per lo sviluppo dell'economia locale con i grandi poli dell'Istituto Italiano di Tecnologia e del Parco Scientifico di Azzelli dei nuovi poli di Chiavari o iLab e Sessi Levante ex convento dell'Annunziata e Palazzo Cambiaso dall'efficienza energetica e dallo sviluppo delle fonti rinnovabili per la tutela del clima e dell'ambiente. La città metropolitana ha articolato il territorio in nuove zone come prevede la legge del Rio e lo Statuto. Adesso saranno affidati i ruoli di rappresentanza e di proposta. Si tratta di Ponente che comprende i centri di Cogoleto a Renzano Valle Sturla Orba e Leira Genova Valle Polcevara e Scrivia Valle Trebbia e Alta Val Bisagno Golfo Paradiso Tigullio da Portofino a Zoagli Entella che comprende Chiavari Lavagna Cogorno Levi Carasco Val Petronio con Sessio Levante Casarza Castiglione Moneglia e le Vali del Levante con la Fontana Buona Aveto Graveglia Sturla. Per l'approvazione definitiva delle zone omogenee dovrà essere stipulata un'intesa con la Regione. Il piano strategico è stato approvato da tutti i sindaci seppure con motivazioni diverse. Marco Doria sindaco metropolitano ha risposto ai vari interventi rimarcando quanto sia difficile fare il sindaco e gestire un comune. La città metropolitana per come è stata concepita non può risolvere i problemi dei comuni ma con il piano strategico non ha scritto affatto un libro dei sogni ma un insieme di progetti intesi come azioni che si fanno. L'ente ha poca disponibilità finanziaria propria perché i meccanismi ordinari a cui adingeva sono stati resi debolissimi dei tagli nazionali ma cerca di far fronte ricercando altre risorse. Per Valentina Ghio vice sindaco metropolitano il piano è estremamente realistico e contiene solo progetti con risorse certe proprio perché siamo consapevoli delle difficoltà generali. Gli aspetti più rilevanti dell'attuazione del quotidiano sono ampiamente trattati compresa le avviabilità e le strategie per la sua manutenzione. Domani Portofino festeggia il suo santo patrano San Giorgio alla quale la popolazione è molto legata. Alle 21 i bambini e gli amministratori del comune accenderanno il grande falò in piazza Martiri dell'Olivetta una tradizione che si perde nel tempo. Per l'occasione da Rapallo alle 20 e da Santa Margherita alle 20 e 15 partirà un battello. Il rientro previsto è alle 23 e 30 con partenza dal muro di Portofino. Martedì è la giornata del 25 aprile della festa nazionale della liberazione. In tutti i centri del nostro comprensorio sono previste le consuete manifestazioni, le orazioni ufficiali e ovviamente i ricordi e le commemorazioni riguardano anche l'entroterra e in particolar modo il passo della forcella dove si riuniranno i cinque comuni dell'ex comunità montana per la celebrazione. Vediamo il servizio. Verrà celebrato martedì il 25 aprile il 72 anniversario della liberazione. In molti centri si sono già svolte le prime iniziative. La giornata della ricorrenza molte amministrazioni comunali con autorità civile e militari l'AMPI e le associazioni combattentistiche d'arma dal primo mattino deporanno fiori e corone e cippi sulle tombe dei caduti prima di dare inizio alle cerimonie ufficiali di commemorazione. A Santa Margherita Ligura alle 9.30 radura in piazza Mazzini e corteo per il parco della rimembranza qui seguirà alle 10 la messa in basilica. Successivamente deposizioni di corona al monumento e caduti a palazzo comunale e con intervento commemorativo di Renzo Ronconi. A rapallo alle 10.30 messa nella basilica dei Santi Gervasi e Protasio poi alle 11 corteo da piazza Cavour a Corso Colombo con deposizione di corone da loro e caduti e al cippo dei partigiani con discorso celebrativo di Bernardo Traversaro il partigiano Rum. Il programma va predisposto dal comune di Chiavari e da Lampi prevede la messa in cattedrale alle 9.30 e il corteo alle 11 raggiungerà piazza Roma dove al monumento ai caduti ci sarà l'alza bandiera e la deposizione di corone. Al cimitero urbano davanti ai cippi dei caduti e al poligono di tiro orazione ufficiale del giornalista Roberto Pettinaroli. A Lavagna come vuole la tradizione la celebrazione si svolgerà lunedì sera alle 20.30 quando tutte le campane suoneranno a festa e partirà da Piazza della Libertà una fiaccolata che attraverserà il centro della città con deposizione i corone d'allora e i monumenti ai caduti. Anche a 6.30 ricorrenza festeggiata lunedì alle 14.30 verranno deposte i corone di fiori alle 16 nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fasce verrà inaugurata la mostra dal fascismo alla nascita della Repubblica del cinema. Alle 20.45 fiaccolata per le vie cittadine con Raduno in Piazza Matteotti e il corteo si chiuderà in Piazza Pertini con l'orazione ufficiale di Marco Doria sindaco di Genova e della città metropolitana. A Moneglia martedì Raduno presso il comune è messa alle 9.30 della chiesa di Santa Croce al termine corone alle lapidi dei caduti e commemorazioni che saranno concluse dall'intervento di Fernanda Contri vicepresidente merito della Corte Costituzionale. Nell'entroterra festa della liberazione organizzata martedì al passo della forcella presso il monumento ai partigiani dal comune di Rezzoaglio che vedrà la partecipazione dei gonfaloni e dei sindaci anche dei comuni di Santo Stefano Daveto Borzonasca Mezzanego Enei dopo la messa ufficiata alle 10.30 da Don Roberto Isola e alietata dal cuore dei piccoli di San Ranzan orazione di Laura Repetto consigliere della città metropolitana. Tra le varie iniziative del Ponte del 25 aprile vi segnaliamo a Sesti Levante che ci sarà la possibilità di visitare e conoscere il Muse nelle giornate di domani domenica lunedì e martedì con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 l'ingresso al Museo archeologico della città di Sesti Levante a Palazzo Fascia in Corso Colombo sarà a tariffa agevolata 3 euro anziché 5 euro lunedì 24 alle 10.30 Fabrizio Benente direttore del Musel condurrà una visita gratuita alla sezione archeologica del museo una notizia di carattere benefico domani tradizionale distribuzione del pane benedetto a Chiavari a cura della società operaia cattolica Nostra Signora dell'Orto davanti a Chiesa a Lavagna davanti alla Chiesa di Maria Madre della Chiesa e ancora a Chiavari presso il santuario di Sant'Antonio e le chiese parocchiali di Rupinaro Saline e Rialto l'incasso delle offerte sarà devoluto alla mensa dei poveri dei capuccini di Viale Tappani a Chiavari chiudiamo con lo sport ieri sera come ben sapete si è svolta la finalissima della team cup primavera l'interno è stata sconfitta per 2 a 0 ma ha disputato una grande partita e ha riscosso elogi da tutte le parti vediamo il servizio sulla partita dell'intervista allenatore Castorina Temevo la squadra di Chiavari e avevo ragione ha dimostrato di essere un bel team organizzato e forte con alle spalle una solida società è una frase che la dice lunga sulla prestazione dell'entella l'è la pronunciata Alberto De Rossi allenatore della Roma dopo la vittoria all'Olimpico per 2 a 0 nella finalissima della team cup primavera la squadra di Giampaolo Castorina non ha fatto demeritato con un'ottima condotta di gara nel primo tempo che sembrava essere presagio di una grande serata ma il gol di Soleri al 41esimo nel primo tempo aveva tutta l'aria di un'ammazzata dal punto di vista psicologico ma non è stato così perché l'entella ha reagito e ha assiorato il pareggio ma al 30esimo della ripresa il rigore realizzato da Marchizza ha chiuso di fatto la partita di elusione e amarezza ma solo per il risultato perché i biancocelesti hanno disputato una finalissima ad alto livello all'olimpico erano presenti tanti tifosi chiavaresi quando ho visto come si sono espressi i miei giocatori soprattutto nella fase del primo tempo ero molto contento per loro ero molto contento per noi eravamo veramente in una situazione ottimale tenevamo benissimo il campo avevamo le decisioni le distanze giuste abbiamo cercato di far gol eravamo sempre nella loro metà campo e venirlo a fare qui a Roma non è assolutamente scontato non è semplice quindi alla fine di questo percorso di questa coppa sono veramente contento perché questi ragazzi mi hanno regalato delle emozioni fortissime e sono convinto che avremo ancora delle energie per andare avanti anche nel finale di campionato quando giochi contro delle squadre che hanno talento che hanno dei giocatori bravi qualitativi è normale che la prima sbavatura tu la puoi pagare giochi sempre sul filo del rasoio però se considero il percorso fatto da inizio stagione adesso non dico che sono sorpreso di essere venuto qua e giocare una partita così a viso aperto però sono rimasto veramente contento perché perché la squadra non l'ho vista intimorita perché la squadra l'ho vista con dei valori la squadra ho visto una squadra consapevole della propria forza probabilmente la partita di andata ci aveva dato delle certezze che oggi abbiamo riproposto quello che mi sento di dire è che dietro dietro questa partita ci sono c'è il lavoro di tutti i miei colleghi delle leve delle leve uso il termine inferiore ma senza senza dover offendere nessuno c'è il lavoro di una società che da anni opera in maniera scrupolosa sul mercato c'è il lavoro di appunto di tecnici preparati c'è forse oggi noi raccogliamo il frutto appunto come dicevi te di questo movimento Entella che è partito sei anni fa ed eravamo lontani da questi canoni e oggi ci siamo molto 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 avvicinati sono stati bravissimi ragazzi perché in questo in questo periodo dove la testa poteva solo andare sulla Coppa Italia siamo stati bravissimi a rimanere anche incareggiata sul campionato stiamo difendendo una terza posizione proprio contro questa squadra e a prescindere noi dobbiamo continuare a lavorare per loro loro devono continuare a darci tutto il loro appoggio perché il percorso di questi ragazzi finirà a giugno e quindi dovremo trovare le forze per rimanere ancora in pista anche in campionato siamo con Giovanna Passano presidente dell'associazione Giocondi di Lavagna parliamo delle due casette che hanno visto vi hanno visto impegnati per una raccolta fondi a che punto siamo? direi che siamo a un buon punto nel senso che abbiamo iniziato questa raccolta fondi a metà gennaio circa e ad oggi possiamo dire di aver già consegnato una casetta su ruoto una casetta mobile a Grisciano di Accumoli e oggi proprio oggi è arrivata in Italia la seconda casetta in legno che verrà consegnata nei prossimi giorni appena le condizioni meteo della zona giù ce lo consentiranno verrà consegnata in una frazione di Amatrice che si chiama Rocchetta quindi siamo partiti dicendo abbiamo un sogno perché sinceramente non speravamo di raggiungere questo grande risultato in realtà i sogni sono diventati due siamo riusciti anche a realizzarli quindi siamo molto soddisfatti siamo con Stefania Boga amica dei Giocondi anche lei ha fatto tanto ci puoi dire cosa hai fatto e in che maniera hai partecipato? Sì diciamo che l'iniziativa è nata con i Giocondi Giovanna Passano io Boga Stefania e Flavio Scarpenti insieme abbiamo lavorato per la raccolta fondi di questa per riuscire a comprare una casetta per il nostro sogno era donare questa casetta a una famiglia che appunto è in abita per modo di dire in una frazione di Amatrice e diciamo che da gennaio siamo riusciti a raccogliere un po' più di 20.000 euro e quindi questo sogno si è potuto realizzare anzi raddoppiare acquistando poi anche una casa mobile su ruote oltre la casetta in legno che appunto verrà poi donata in questi giorni e ultimamente siamo andati giù per la consegna della seconda casetta e siamo andati io Giovanna Flavio Scarpenti e Claudio Ponzini e siamo molto contenti abbiamo vissuto un'emozione molto forte abbiamo rappresentato un po' tutta la lavagna un po' tutti coloro che hanno donato perché poi le donazioni sono state un po' da tutta Italia è stata un'emozione molto forte la persona che ha ricevuto in donna questa casetta ci ha espresso tutta la sua stima e commozione e adesso giù sta nevicando e lei è a riparo almeno lei diciamo una domanda è facile fare del bene direttamente intendo dire raccogliere i danari e poi portarli direttamente a chi ha bisogno senza intermediari avete trovato ostacoli? allora noi abbiamo da praticamente settembre che ci diamo da fare in questo campo e abbiamo raccolto abbiamo stretto contatti diretti con le persone che abitano proprio nel cratere sismico quindi per noi non è stato difficile poter capire a chi destinare ciò che appunto noi abbiamo raccolto come le derrate alimentari che abbiamo portato giù nei precedenti viaggi eccetera o adesso queste casette non è stato difficile proprio perché quando tu arrivi in un posto è proprio la gente che si fa avanti perché i primi tempi si aveva un po' bisogno di tutto e quindi noi siamo riusciti a conoscere tante persone che comunque anche solo passando per strada vedevi che vivevano in una roulotte e quindi che avevano bisogno di qualcosa quindi fermarsi e lasciare qualcosa a loro per noi è stato spontaneo poi mantenere i contatti tramite il telefono e quindi diciamo che non è stato difficile è stato molto bello ecco perché comunque sono nate delle amicizie una solidarietà queste persone non smettono mai di ringraziare tutti quanti coloro che hanno donato e che donano ecco Giovanni ci sono anche degli aiuti come provviste da rate alimentari che inviate ma partono da qua oppure le approvvigionamenti avvengono giù allora in questo caso possiamo dirti che noi ci siamo attivati da subito per quanto riguarda la raccolta di beni di prima necessità abbiamo fatto esclusivamente appunto per recapitare a ciascuna persona quindi nelle mani direttamente delle persone che avevano bisogno tre viaggi settembre ottobre novembre e anche dicembre e non solo però perché tramite la raccolta di denaro che abbiamo fatto siamo anche riusciti ad acquistare ciò di cui avevano bisogno queste persone in un supermercato proprio dei dintorni di Amatrice in modo tale che si possano o comunque abbiamo provato ad aiutare nel nostro piccolo anche le attività che sono sopravvissute perché naturalmente sono veramente poche le attività che sono rimaste in piedi dopo questi fenomeni sismici molto intensi e a questo proposito ci sentiamo di ringraziare di cuore naturalmente tutti coloro che hanno partecipato e continuano a partecipare e a sostenerci ma in particolar modo voglio ricordare quella che tutti chiamavano Sandra quindi Alessandra Ricci che pochi giorni prima di lasciarci aveva espresso il desiderio di darci una mano e quindi di partecipare anche lei a questa raccolta purtroppo non ce l'ha fatta ci ha lasciato prima allora i suoi più chiari amici hanno deciso di fare loro una raccolta in denaro e di donarci proprio in sua memoria in suo ricordo questa cifra allora noi abbiamo pensato che il modo migliore per utilizzarla fosse proprio quella di fare una spesa alimentare in un supermercato vicino ad Amatrice a Città Reale e questo signore ci ha provveduto a distribuire alle persone che gli abbiamo indicato proprio questi generi alimentari e a questo proposito ci tenevamo molto a ricordare Sandra e ricordare tutti questi suoi cari amici che hanno avuto questo gesto veramente emozionante in suo ricordo e in suo onore quindi possiamo dire aiuti a chilometro zero assolutamente sì guarda è faticoso perché indubbiamente raccogliere e poi partire alle tre di notte e ritornare la notte successiva con questi grandi camion questi furgoni e tra l'altro appunto fare il cosiddetto porta a porta nel senso che noi ci siamo sempre recati veramente direttamente dalle persone che hanno bisogno e abbiamo consegnato tutto ciò che c'era di bisogno proprio nelle loro mani per avere la sicurezza che tutto ciò che è stato raccolto e donato andasse veramente a buon fine è una cosa su cui abbiamo sempre puntato e a cui teniamo molto tg 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 guglio termina qui vi lascio le previsioni vi lascio le previsioni del tempo per domani domenica 23 aprile e per quelle relative a lunedì 24 informazione giornalistica torna come di consueto lunedì alle 12.45 alle 14.15 con l'emissione di tg gente e in serata alle 19.30 alle 22.45 la consueta edizione di tg tg guglio a tutti coloro che ci hanno seguito la più cordiale buonasera e buona domenica previsioni del tempo per domenica 23 aprile cielo in prevalenza molto nuvoloso con possibili deboli piogge anche a temporaneo carattere di rovescio in particolare a Levante venti di intensità in prevalenza debole dai quadranti meridionali nel pomeriggio rinforzi fino a moderati sulla parte centrale mare inizialmente molto mosso in graduale calo a mosso nel corso della giornata umidità su valori alti temperatura sulla costa minima 12 massima 17 nell'entroterra minima 6 massima 15 previsioni per lunedì 24 aprile nuvolosità irregolare con possibili piovaschi venti deboli mare mosso temperatura sulla costa minima 11 massima 16 nell'entroterra minima 6 massima 14 per l'entroterra per l'entroterra per l'entroterra per l'entroterra massima 16 massima 15 six